Musica Abbiamo fatto la DV Poi abbiamo fatto BG Clamperl vacuum wave Madonna puttana vergogna La sand Dio cane Boh due mezza tre massimo stacco Forse anche un po' prima Per oggi stiamo dando un bel po' eh Se volete supportarmi ragazzi vi ricordo Punto esclamativo Hero Wars in chat Basta fare il livello 10 Con il mio link da browser E ci mettete 5 minuti non dovete neanche scaricare nulla Semplicemente cliccare Hero Wars E fare il livello 10 Mi dareste una grossa mano Ragazzi abbiamo fatto la prima oretta e mezza Se volete recuperarvi il gioco Come funziona tutto E via E via Eccoci Stupenda sta roba eh capo Che dici Rain dance Vabbè spam va Pianca madonna se me la faceva subito ero morto Se me la faceva subito ero morto Zio cane Che cazzo è sto coso Vergogna Thundershock Via ice fang qua Vabbè Non granché Dammi thunderbolt Zio Vabbè meglio di nulla Ice beam No non ice beam Lo facciamo Bucking wave I'll say Rotom Ice beam Bucking wave Brava cocca Bravo cocco E' un bidonemon questo Però ragazzi E' questo l'obiettivo della pil Trasformare i bidoni in pokemon che fanno punti Per cui E' un bidone che ha cuore però E quello conta ragazzi Conta avere il cuore In tutto Si può avere star on per giocare Certo C'è il discord della kaizo 2 Perché ho fatto ice beam su sto bidone Al 12 Era da tenere quella ice beam Vabbè Cioè vabbè Super F si però Tiene il PP E' vero che abbia la leppa Plasla Andiamo di Plasla Dobbiamo andare di ice beam secondo me Ok Al 20 Ho usato un ice beam in più Vabbè In caso darò la Crazy 2 Ligar Madonna se è forte Sì per Buizel Ci facciamo poco danno con la confusione Però Sword Dance Se anche non ti compisci da solo 40 volte Zio Va bene Non so quanto manca del massimo Cioè Gioco e sto tranquillo Non Mi diverto bro Cioè Non capisco Tutta Avete una Cazzo Cazzo Mi diverto bro Mi gioco le mirande e la pille Bella Come vanno vanno Buono Devo ricaricarla Qua c'è una sete Vacuum Bella la vacuum wave Brother Splash Big root No 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 Voglio Abbiamo solo un sogno Vedere Hitman Top alla Lega Immagina se questa Arrivasse Così avanti Sarebbe no senso Perché tranne la speed In realtà è buono Con la stab Toglie la speed Shingling Non saperne leggere Né scrivere Li sciotto Nel culo Vacuum Moe Valo 31 Molto bene Molto bene Full clear Se facciamo questo Full clear Dai crediamoci Capi Vacuum Stabata Super F Giura Agi Steel Poliwag Direi che Thunder Shock Flash Vacuum wave Di priority Per non rischiare Robbe Via Full clear Fatto Vai capo Union cave Più 20 Full clear Sì 17k Dai let's go Eh lo Harry Ebbene Abbiamo un po' In casa Ah lo slave o serve Beh lo andiamo a prendere al centro pokemon dopo Non è un problema Ah è vero che c'è la lotta a coppia E' vero per quello serve Prendiamo al centro pokemon dopo Non è un problema Ice beam Su questo Cos'ha sky attack Che Importante che non ci curiamo E via Il centro pokemon Vacuum wave Molto bello Dobbiamo arrivare a 10k punti Stai weak ragazzi Prendiamo un attimo lo slave Semplicemente senza curarci Chiaramente Perché è vero che serve Eh We draw pokemon Ma perché non ti curi Sì sono nel documento Cioè non è che le validano proprio Mi fai il documento Mi mandi lo screen della C'è il link della live In cui è successo E via Capito Ok Questo resisteva Palle sto robo Questo rompicazzo Grazie Lucio Del tier one Ma non è questione ragazzi Della pil Non è Cioè in quella parte Del discorso di Nani Certo che la condivido Però non è un discorso Della pil A ogni competizione Ho sempre fatto Un sacco di I tornei di Airston E a ogni competizione Porta Siccome porta Molto scambio di utenza Hai capito Che di 100 Di Ok Che magari Di 100 persone Che si scambiano Due o tre cretini Ci sono Questo è normale Di ogni competizione Non è la pil Tornei di Airston Infiniti anni Di tornei di Airston Era così Ogni santo weekend Zio Cioè non è la pil Questa No gli abbiamo fatti Tutti i trainer Giusto Perché era uscito Poi a prendere l'altro O sbaglio Ma Nezzi Piglia questo E questo E questo E questo E questo E questo Ok Rage L'avevano fatto L'avevano fatto l'allenatore Prima No ragazzi Oh madre Mi sono sbagliato L'avevano fatto il trainer Prima Perché dopo era riuscito A prendere lo slave Li dovremmo aver fatti tutti Quello l'ho già fatto Quello lì a destra Spettacolo Plazza Plazza Magico Ok Gio uno Eh che palle Che tanto non lo shottavo Bella Corra Bella Bella Vez Mudkeep Aveva Psichico Proviamo Bucking Wave Su di lui On the hand Di thundershock Io farei vacuum wave Perché altrimenti Rischia di essere più Eh vabbè Che sfiga ragazzi Però porco dio Perché se è più veloce No È facile che sia più veloce Capito E quindi non mi andava di Ok Più veloce io Ora Regist Il primo l'abbiamo shottato Di vacuum Ok Grow light Vacuum Buono Palle fatta Molto bene Bugsy 70 Let's go No Bettina Se non la fanno i mod Regà No Quanto pare Se la fanno i mod Bene Se non la fanno i mod Se i mod qua non fanno un cazzo Zio pera Porco dio Oh madre Più veloci Vai capo Lati ha sdoggiato Con che qualità Oltretutto Sensory C'è assurdo Va bene C'è incredibile Conversion dark Se lo vogliamo Questo lo mandiamo al bar Con ice beam Molto bene Merda che livello ho fatto Ho fatto più due ovunque Più tre in special Allora Clefari Andiamo per vacuum wave Qua Ok Midorina Sensory Oh che palle Sto close combat Brutta mignotta Zio pera Caga cazzo Fibas Che è che ha fatto Vai Vediamo Se riusciamo a passare Sta pale Sarebbe tanta roba Qua Bravo capo Giuno Il piccione Ice beam Amnesia Si aumenta la special defense Ok Molto bene il crit Avevamo anche la priority Ladian Ice beam Oh L'ultima rank Ho vinto su fire red Aveva ice beam C'è su Air gold soul silver Ho fatto solo Tutta la run Ice beam Ho fatto Magari un segno Non lo so No dubito Dubito Con sta merda di it Madonna ice beam Se è forte Ecco Dio Molto bene Doggiata anche la pale Per il capo Ma cambia le grotta di Glittertanger Siamo atleti Ma lo scopriamo oggi Cotton spore C'è un item da prendere di qua Grande Ricky Bella mezza Io alleno il collano Facciamo il Eh mancano gli item Da prendere dall'altro Ma Ci andiamo poi dopo Tanto Oh madre Moriando a sala Mensa al 21 Ti rendi conto Che se entrava Zap Cannon Non potevo uscire A curarmi Grazie Ricky Dei due Una puttana Cioè devo usare L'item lì Avevo la La berry S beam Withdraw Ok Va bene Good Noi stessi Capi Ok Resistiamo Switcheru Direi di no Anche perché è difficile Che trovo Che tolgo una mossa In sto Pote Ice beam Puttana dio La seconda volta Che becco questo Che gli entra Mega punch Mi leva un fracco Di vita Sì Ok Ok Molto bene Intanto Questo Fa il rivale E siamo A 12 E 2 A 17 2 Potion Proviamo il full clear Qua Voglio il full clear Con questo I pipì li abbiamo Rega Sentite Certo che se mi Meccassi dei pokemon Umani Anche Contro Scusi Muore con vacuum wave Tecnicamente No Assurdo Rischili Perché ha fatto Stockpile Però Porco dio Se mi sembrava Vabbè Non voglio usare Tutti gli ice beam Il discorso è quello Che è lungo Se voglio provare Il full clear Qua Allora O vogliamo uscire Perché prima siamo morti Qua con quel cabotops È vero che quel cabotops Faceva merda La carta L'abbiamo già fatto Cioè l'album L'abbiamo finito Forse Prendiamo gli item Grazie Però se hai fatto il 10 Dovrebbe arrivare Roserade Ice beam Però siamo under leveled Vediamo un attimo Che item ci sono Qua Twister Thirdest È che sono golosi I punti del full clear Qua Minimo rischierei C'è sto 77 di vita Comunque E tanko bene Quindi se prendo altri danni In realtà dopo abbiamo fatto anche i punti Abbiamo fatto sia il rivale Che i punti della pale Quindi abbiamo fatto i 200 di punti Con Staraptor Poi non lo puoi sapere Magari morivo subito Anche con quello Cioè morivo subito con quello Che ne sai Magari qualcuno mi faceva Come si chiama Mirror coat Cioè che ne sai Come puoi saperlo Avresti fatto più punti Con quel pokemon Era Era stralento Quello Staraptor Come questo Loteva morire Da un momento all'altro Non lo puoi sapere Però Come sarebbe Scusa Cioè quanto mi ha levato È vero che mi ha critato Ma mi sembra Insano il danno Tiriamo una lemonade Questo dai Vabbè Che la speed mi sia diminuita Penso che non sia Un grosso problem Tutto bene Tutto bene Capi Sì Tutto a posto A sto punto proviamo il full clear Abbiamo un full restore tenuto Anche quindi Proviamo il full clear Magari usando una lemonade Me la collo Anche perché potrebbe schiattare Da un momento all'altro Questo pokemon Quindi me la collo Bro Ma è morto Lo slave Perché non me Ok Grazie Debiru Dovrebbero apparire Ah è da togliere Sheptile qua Ok vediamo Mac usa mega drain Ok Cioè non ha shot Cioè scusa Mac al 30 con mega drain Non ha shotato starmi al 7 Scusa All'attacco di zio paperino Questo Cioè gli ha tolto un terzo di vita Che cazzo All'attacco speciale di zio paperino Quel mac che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Paid actor E come cazzo è possibile Bella Matt Allora Andiamo con Thundershock Aia Ok Lo zardo No curami con present Però Come farmi danno Ok G2 Brasile No i ultimi due per il full clear Andiamoci a prendere sto full clear Capi Zabdos O madre Buono Ultimo trainer per il full clear No? Qua sarebbe goloso farlo Fare il full clear Qua sarebbe veramente goloso Allora Proviamo Thundershock Vacuum wave Priority Explode Vacuum wave Mamma mia Strepitoso Hitmontop signori Che cuore che ci sta mettendo Torre bruciata B10 Full clear Si Ho 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 Sous-titrage ST' 501